Io ho fatto basta avanzare, perché ho visto che non è l'ultima parte del reino, che mi ha visto che il Parlamento non sta independizzando. Io ho visto che il Parlamento non sta independizzando, non è che me ne sa che. Ora che il Parlamento è un po' di budget di Prime Ministeri, l'assunto di persone di Parlamento è un po' di Prime Ministeri, quindi realmente il nostro appendix è un suo presupposto, che il Stato di Sommesso non può funzionare indipendentemente, quindi realmente la separazione di potere in strada di politica, dopo che ho visto che il Stato di Independiente è un po' di independizzazione del Parlamento, che mi ha visto che il Parlamento è un po' di Prime Ministeri, l'Algimena Zaka, la nostra ultima parte del reino, che non è un Stato di Independiente, il Partito di Ejecutivo, quindi il nostro presupposto, l'assunto di persone, è un po' di Prime Ministeri, quindi realmente è un po' di ideal, mirando la separazione di potere in strada di politica, e un concepto di lei, il lavoro trattato di un comissione di Stato per l'indipendentemente di independizzazione, e il nostro Consiglio non sta guardando un consello di D.Y.A.Z. e il Stato di Ejecutivo. Il nostro lavoro, per esempio, nel San Martino, se mi non ti ho equivocato, nel 2015, è un situazione che il Parlamento è mandato il Governo del Parlamento, quindi questo Parlamento ha fatto un po' di disconfianza nel gabinete, nel regere di San Martino, e un po' di ore dopo, il regere di decidere di disolvere il Parlamento, quindi è un Ben Stato. La crea un impasse constitucional, nel quale il governatore deve exigire per il regere di entregare il suo ritiro, e il regere di non deve entregare il suo ritiro, e ora il governatore deve disolvere il Stato per fare una nuova elezione. e ci si qui per il Luna, buscare 3 consello di juristica specializzata e l'Holanda, e ci si attraversi che in la maniera di Costituzione, il governo ha l'upper hand, in maniera di misa inglese, Quindi, praticamente, anche nel mio lavoro mandato a casa da Staten, ainda il governo ha autorità per mandare a Staten a casa. Quindi, al final, il fatto è che Staten mi ha avuto un pinto e, dopo, il governo ha entregato il retiro e avuto la elezione. Quindi, è impossibile per noi indipendentare il Parlamento se il primo ministro per un pinto Staten per la nostra presenza. Ovviamente, il governo ha avuto un pinto, ma ora ci sono autorità per il primo ministro specificamente per mandare al Parlamento a casa. E, dopo che il Parlamento a casa, manda il governo a casa. Quindi, ci sono alcuni mesi corregiti nel sistema.